Corso di cartomanzia gratuito Lezione 17 Significato dei cuori Lezione 18 Significato dei quadri Lezione numero 17 Interpretazione delle 52 carte del gioco francese o da poker In generale le carte rosse sono indizio di fortuna e sono quadri e cuori. Le loro figure rappresentano persone bionde, castane o di capelli rossi. Le carte nere sono più indice di sfortuna o di fatica per arrivare all'obiettivo. Le persone in questo caso sono brune o more. I re di solito rappresentano persone mature, il fante o una persona giovane. Le donne secondo il seme simboleggia la donna sposata, donna di fiori o altri tipi di donna, che scoprirete nella descrizione di ogni carta. Infine i 7 e gli 8 rappresentano delle ragazze giovani, ma non hanno sempre lo stesso significato, che può variare secondo le carte avvicinanti. In prima lettura troverete Il significato di ogni carta isolata, di ogni seme, in seguito Il significato delle associazioni tra carte dello stesso seme o colore e dopo troverete l'interpretazione dell'associazione tra semi diversi. Significato dei cuori isolati Asso di cuore dritto Grande soddisfazione Gioia intensa Nascita Felicità coniugale Abbondanza Asso di cuore a rovescio Cambiamenti L'incostanza nuoce al consultante Gelosia eccessiva Due di cuore dritto Amore Riuscita sociale Periodo positivo in ogni campo Passione Benevolenza Due di cuore a rovescio La fortuna Il desiderio del consultante Gelosia Illusione 3 di cuore dritto Riuscita Vittoria Soluzione Appuntamento Riuscita nella moda Fidanzamento Fedeltà E la più bella carta del mazzo 3 di cuore a rovescio Indica la fine dei problemi a breve termine Azioni impulsive 4 di cuore dritto Difficoltà della vita dovute al proprio entourage Stabilità in amore Novità 4 di cuore rovescio Il consultante conoscerà nuove persone dalle quale deve diffidare Dispiaceri Noie Rimorso 5 di cuore dritto Successioni Riconciliazione Eredità Vacanza di coppia Amori appagati Eredità Leggi 5 di cuore a rovescio Parenti Razza Famiglia Lotta coronata dal successo Resistenza ai problemi 6 di cuore dritto Il passato Indecisioni Ostacoli Possibile rottura Vedovanza Debolezze 6 di cuore a rovescio L'avvenire Carta molto favorevole Rinnovamento 7 di cuore dritto Il pensiero del consultante Fidanzamento Matrimonio Gioie di amore Intelligenza Anima 7 di cuore a rovescio L'intenzione del consultante Desiderio Volontà Avventure extra coniugali Premeditazione 8 di cuore dritto Giovane ragazza bionda Matrimonio con una ragazza bionda Amicizia Fine di un amore e inizio di un altro migliore Dolcezza 8 di cuore a rovescio Grande soddisfazione Riuscita in ogni campo Riuscita in ogni campo Gelosia Alternanza di rapporti Progetti realizzati a metà Rapporto fondato sulla sessualità 9 di cuore dritto Riuscita Positività Soddisfazione Maternità Lavoro procurato da un amico Doni Sogni veritieri Realizzazione dei desideri del consultanto in amore 9 di cuore a rovescio Il consultante riceverà dei buoni consigli Ostacoli temporanei 10 di cuore dritto La città Una città favorevole al lavoro del consultante Fortuna in amore Patria Residenza 10 di cuore a rovescio Litigi Collera Indecisione Alti e bassi in amore Mistero Jack di cuore dritto Giovane ragazzo gentile Successo in società Buona notizia in amore Jack di cuore a rovescio Difficoltà sentimentali Attrazione Invidia Donna di cuore dritta Donna bionda Donna buona e onesta Moglie fedele Virtù Matrimonio felice Donna di cuore a rovescio Donna di poca virtù Moglie di uomo potente Scandalo Vizio Re di cuore dritto Uomo biondo Il marito Uomo influente Un sacerdote Un innamorato Re di cuore a rovescio Uomo influente Uomo disonesto Un ladro Vizio Corruzione Lezione numero 18 Significato dei quadri isolati Asso di quadri dritto Realizzazione Guadagno Documento o lettera di affari Messaggio importante Asso di quadri a rovescio Discendenza numerosa Qualcosa di raro Matrimonio ricco Sonno Due di quadri dritto Gelosia Desiderio Dispiacere in amore Questa carta rafforza la vincita o la perdita Rappresenta anche le affinità I legami Due di quadri a rovescio Evento imprevisto e felice Biglietto Libro Cambiale Tre di quadri dritto Impresa professionale o commerciale Perseveranza Perfezionamento Notizia riguardante il denaro Tre di quadri rovescio Fine di un periodo negativo per il consultante Infanzia Indebolimento Umiliazione Quattro di quadri dritto Invito Riunione Generosità Guadagno Stabilità economica Cinque di quadri rovescio Periodo positivo per il consultante Circolo Prigione Termine Opposizione Cinque di quadri dritto Momento molto favorevole per il consultante in affari Prosperità nel matrimonio Vincita Cinque di quadri a rovescio Difficoltà Disordine Rovina Libertinaggio Sei di quadri dritto Impiegato Domestico Subalterno Esitazione Indica tutto ciò che avviene nel presente Sei di quadri a rovescio Il consultante è circondato male Desiderio Gelosia Delusione Perdita Carenza di ambizione Sette di quadri dritto Fortuna Realizzazione dei desideri del consultante Figlio o erede Sette di quadri a rovescio Il consultante manca di spirito di decisione Inquietudine Impazienza Sospetti Otto di quadri dritto Invito ad una serata o a pranzo Eredità Una ragazza che lavora in un commercio Otto di quadri a rovescio Litigio tra parenti o amici Vanità Usura Perdita di denaro Nove di quadri dritto Difficoltà e contrattempo Viaggio Possibile parto gemellare Nove di quadri a rovescio Gravi difficoltà per il consultante Inganno Vane speranze Dieci di quadri dritto Il consultante deve avere fiducia nei propri progetti Risparmio Vincita Gravidanza o parto Dieci di quadri a rovescio Ci sono dei traditori vicino al consultante State attenti agli invidiosi Jack di quadri dritto Buon periodo per il lavoro Scolaro Studioso Meditazione Jack di quadri rovescio Notizia sgradevole Dispiaceri Traditori Notizie da lontano Licenziamento Donna di quadri dritta Donna gentile e servizievole Piccoli ostacoli Donna di mezza età capace di aiutare il consultante La moglie Donna di quadri a rovescio Donna sgradevole Una civetta Persona interessata e avida Ingiustizia Timore Timidezza Re di quadri dritto Uomo onesto Uomo bruno Un commerciante Un banchiere Amicizia Matrimonio Il marito Re di quadri a rovescio Uomo della campagna Buoni consigli Uomo divorziato Un conoscente Vizio Debolezza Grazie di averci seguiti fin qui Se l'argomento ti interessa E vuoi darci una mano Metti un like Iscriviti al canale Ed attiva la campana Riceverai le notifiche Dei nuovi video postati Arrivederci e buona vita Grazie a tutti Grazie.